FISM e FADOI stanno proponendo questa scuola di alta formazione sul ragionamento clinico in epoca digitale perché hanno valutato la necessità di implementare la cultura dei propri medici e dei medici appartenenti a tutte le società scientifiche da qui l'interesse di FISM per l'utilizzo anche di apparecchiature e informatica app o altro che possono in tempi brevi dare un aiuto efficace al medico nell'inquadramento del paziente sia in situazioni di acuzie che in situazioni invece di malattie continue. Partire dalla medicina interna è estremamente importante e non possiamo aspettarci che l'università possa colmare questo gap visto che l'evoluzione tecnologica è tale per cui serve un continuo aggiornamento. Questa scuola può essere l'inizio di una serie di continui aggiornamenti dei medici.